A 817 metri di quota, nel territorio di Ossuccio, comune di Tremezzina, l'Abbazia di San Benedetto è un pregevole esempio di architettura romanica arrivata a noi intatta dall'undicesimo secolo. Nella stagione invernale, l'ascesa a San Benedetto è subordinata al meteo e alla condizione dei percorsi. La strada supera diversi corsi d'acqua, di cui la Val Perlana è particolarmente prodiga. Alcuni di questi, a seconda della stagione, possono presentarsi parzialmente ghiacciati. Tutto intorno è silenzio, tra i larici e gli abeti. Le terrazze, che una volta coltivate dai frati fornivano cibo alla comunità, hanno progressivamente ceduto terreno alla vegetazione alpestre. I tre spioventi del tetto, nel più classico stile romanico, denunciano le sottostanti navate. Da uno dei tre absidi, quello di destra, si eleva la possente torre campanaria. Collegato allo stesso abside, l'edificio che un tempo albergò i monaci che vi abitavano. Collegato allo stesso abitavano.